L'hotel Terra Umbra sorge nella campagna Umbra a pochi chilometri da Narni, un suggestivo borgo medievale arroccato su di un colle. Albergo 4 Stelle con 29 camere dotate di tutti i comfort, dispone di piscina scoperta con idromassaggio, palestra, sauna, sala congressi, campo da beach volley, campo da calcio regolamentare, giardino, parcheggio e ristorante. Ideale per chi desidera rilassarsi, ma anche ideale punto di partenza per visitare i borghi, i luoghi d'arte, il paesaggio della splendida Umbria e non solo. Roma è ad appena 80 chilometri. Un'oasi di tranquillità a vostra disposizione per meeting e incontri di lavoro, o per una vacanza all'insegna del benessere, dove il piacere della buona tavola non sarà trascurato. Il piacere della buona tavola non sarà trascurato.